Ciao, complimenti per essere qua. Intanto guarda subito la tua destra, troverai un numero di telefono al quale mandare un sms oppure un whatsapp per fissare subito la tua valutazione del benessere, il tuo body scan gratuito con me. Inoltre guarda qua sotto perché troverai anche due ebook gratuiti che ti avevo promesso e non solo, anche un video bonus sorpresa. Ci vediamo nei prossimi giorni perché riceverai delle mail di altissima qualità con dei contenuti a 360 gradi sul benessere. A presto!